Giuseppe Triolo, imprenditore nel settore funerario con tanti anni di esperienza, conosciutissimo nella città di Reggio Calabria. Cosa succede giorno 1 gennaio 2024? Diciamo che dovrebbe succedere uno stop a tutte le ambulanze private, NCC e non annesse alle agenzie. Perché praticamente la Regione, immaginandosi che noi fossimo come la Lombardia, perché hanno copiato da lì, dicono che questo servizio unitamente all'agenzia funebre nostra non è compatibile. Piuttosto che la Lombardia, volevo dire al consigliere che l'ha proposto, perché non è copiato dall'Emilia, dalla Toscana, dove le misericordie, ad esempio, fanno anoranze funebre, ambulanze, ospedali, cimiteri, tutto. Quindi ci paragonano la Lombardia come se un servizio di questo tipo, fatto sull'Aspromonte, sul Pollino, a Gambari, potesse produrre un reddito tale per la sopravvivenza, mentre non è così. In Lombardia un'agenzia di solo servizio NCC, ambulanza, vive bene. Però lì abbiamo, diciamo, una popolazione notevolmente diversa dalla nostra, sia come numero, come densità, come estensione del territorio, come tutto. Quindi oggi voi dovete chiudere, mandare a casa dipendenti, vendere l'ambulanza perché non serve più? Noi abbiamo, mi pare, sei dipendenti, due dei quali necessariamente dovranno rimanere a casa. Ma il problema non è questo, il problema è che nella legge numero 38, varata poco prima di Ferragosto, la ragione scrive su richiesta del territorio. Ora, da un'indagine interna tra noi colleghi, il 99% non ne sapeva niente. Sul territorio, presenti e attive, siamo circa 8-900 ditte in tutta la Calabria, ma di queste, cioè il 90% posso garantirvelo, non ne sapeva niente, non era richiesto modifica. Questo tipo di modifica ovviamente è futuristica perché la regione dice sono linee guida nazionali che noi non abbiamo visto. Cioè i disegni di legge in Senato, ok, non sono linee guida, sono disegni di legge e basta. Un quadro, diciamo, legislatorio per il nostro settore è il DPR 285 del 90, dove non prevede tante nuove innovazioni, ma nulla c'entra nel servizio privato, l'iniziativa privata che anche va a urtare con la Costituzione. Tant'è che il TAR si pronuncerà il 10 gennaio. Quindi dall'1 al 10 continueremo a lavorare in virtù di questa situazione nuova che c'è con il TAR, che ha peraltro invitato a presentarsi anche alla regione. Quindi se la regione si costituirà in giudizio, vedremo. Unitamente a questo c'è anche l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza del mercato, in gioco, dove abbiamo fatto il reclamo e ha inviato due interrogazioni alla regione Calabria, una delle quali è stata risposta ma non in modo soddisfacente, quindi c'è stata la seconda, che ancora non so se la regione ha prodotto una sufficiente risposta o sarà poi giudicata anche dall'autorità garante. Se le cose andassero come dice la regione, praticamente, se abbiamo capito bene, chi vuole fare questo tipo di lavoro non deve avere la licenza come pompe funebre. Esatto, ci ritroveremo come la Sicilia, che la Sicilia ha adottato questo tipo di regolamento un paio di anni fa e in Sicilia abbiamo visto quello che è successo.